Buona serata, pollicione, iscrizione, campanina per ricevere gli avvisi e se volete condividere il video mi fate veramente felice. Ho scorporato questa parte dal video numero 2 perché diventava troppo lungo e perché era anche fuori contesto, però bisogna anche precisare alcune cose. Quando vi dico che le notizie vanno sempre verificate c'è un motivo, anzi quando vi diciamo perché questo è un discorso che si può estendere a tutti i canali che si occupano di informazione sociale, cioè che sono focalizzati al sociale, che non è solo RDC ma anche pensione, disabilità e le varie difficoltà a cui vanno incontro le fasce più deboli. Quando vi diciamo che bisogna sempre verificare le informazioni, c'è un motivo. Per carità, anche noi non siamo immuni dall'errore, anche a noi capita di sbagliare, però generalmente il nostro errore deriva da informazioni sbagliate all'origine, informazioni sbagliate date da canali che sono teoricamente affidabili. Guardate, l'ultimo esempio più banale riguarda l'Inps e l'assegno unico per i percettori RDC. All'inizio di marzo l'Inps affermava che sarebbe stato pagato entro marzo con tanto di post, poi ha tolto il post e poi ne ha rimesso un altro alcuni giorni dopo in cui diceva che sarebbe stato pagato ad aprile. Noi basandoci sulla prima informazione abbiamo detto una cosa, quando è uscita la seconda vi abbiamo detto guardate non è così, l'Inps ci ha detto prima una cosa e adesso ne fa un'altra. Ma rimane il fatto che ci siamo basati su una fonte teoricamente affidabile. Perché vi dico questo? Perché a volte voi mi fate domande che vengono fuori da fonti che sono affidabili quanto la parola di Renzi. E generalmente quelle fonti sono fonti social, sono fonti che derivano da pagine di faccialibro o del cinguettino o roba così. Non sono mai verificate e il problema vero è che questi sparano la cazzata. Voi gli date visualizzazione e magari pure i like fate salire questi canali nella visibilità, questi canali, perdon, queste pagine nella visibilità, questi profili a scapito dei profili che cercano di dare informazioni attendibili. Per un canale attendibile, in questo modo, la fatica per salire e diventare visibile aumenta. E guardate, io ho preso l'esempio di faccialibro, prendiamo l'esempio qui sulla piattaforma. Tra l'altro sto lavorando a un video di risposta a Masala perché ha fatto un discorso che mi ha obiettivamente seccato, perché va a toccare il concetto profondo di democrazia e forse è caso che finisse con questa superiorità morale dell'Occidente che ha un po' rotto il cazzo a tutto il mondo. Dicevo, Masala che è la punta di diamante, comunque io continuo a rispettarlo, non essere d'accordo con una persona, essere anche seccato da determinate argomentazioni non implica la mancanza di rispetto verso una persona. Quando io mi incazzo verso un canale che seguo e poi smetto di seguirlo, è perché si è andati un po' oltre il discorso del rispetto, cioè si è andati verso la partigianeria ottusa e l'insulto verso chi non la pensa come te. Masala, anche se su certe cose, ve l'ho detto, ve ne parlerò poi a un altro video, mi ha urtato, non è stato offensivo, non è uno che va sotto i canali e banna i commenti critici. Ecco, questo è già una bella differenza. Dicevo, se il canale di Masala non arriva a 800.000 e dei colatori fognari come Cube Infinito, che sono dei fributari ignobili, passano il milione sparando stronzate. Capite che questo penalizza i canali che cercano di fare informazione seria? E guardate che non pensate che sia un fenomeno esteso su tutta la piattaforma a livello globale. In America i canali di informazione passano i milioni e milioni di iscritti, diventano veicoli di commento quasi, sostituendosi e affiancandosi alle piattaforme tradizionali. In Italia, quando dici che fai lo youtuber, ti guardano come se fossi un povero deficiente, un nerdone rinchiuso nella cameretta a fare lo smanettone. Non lo considerano un lavoro, anche se YouTube vi manda le fatture, se avete una partita IVA, come vi arriva dall'IRS americana la dichiarazione delle tasse pagate nei confronti dello Stato americano, visto che si pagano lì. Quindi quello che voglio dire è un'attività che chi la vuole fare bene ci mette impegno. Poi, con i suoi modi, io sono uno della vecchia scuola che preferisce la parola alle immagini, apprezzo che invece ci mette anche la parte più coreografica. La farò anch'io, sì, quando Jack avrà tempo, perché lui che si occupa di questa parte, quando io non ci sono. E anche quando ci sono, diciamo così. Ma ragazzi, ci sono anche delle priorità per cui preferisco, ve l'ho detto, ragionare sulla parola. Però dare visibilità a contaballe penalizza chi cerca di dirvi come sono le cose. Se ho preso l'esempio di YouTube, ma il problema è che su faccia libro è ancora peggio. Su faccia libro, ragazzi, hanno fatto girare la bufala del pagamento anticipato delle pensioni. Questa bufala ha continuato a girare nonostante post italiane e IMSS avessero pubblicato e quindi documentato e informato in modo ufficiale che si sarebbe tornati a pagare le pensioni come si pagavano prima della crisi. Quindi nessun anticipo e si parte dal primo giorno bancabile. Ora questa bufala ha continuato a girare e ad essere seguita e considerata informazione attendibile anche quando fattualmente si era visto che non era così. Perché Jack ha visto dei commenti in cui c'erano persone che il 25 si chiedevano perché non ci fossero le pensioni. Sotto canali che il giorno prima o due giorni prima avevano detto le pensioni partono dal primo aprile, la comunicazione è ufficiale di post italiana dell'IMS. Quindi partono dal primo aprile. Il 25 le pensioni non ci potevano essere e arrivavano delle teste vuote e l'ho letto su faccialibro. Allora se tu ti vuoi informare da un tizio che ti dice ah ma io l'ho sentita dal cugino del fratello dello zio che lavora vicino al palazzo dove sta l'IMS ve l'ho detto mi freghi una volta sei Fubutu mi freghi due volte son coglione io. Se tu ti affidi a questa gente quando poi a questa gente chiedi mi dici dove cazzo l'hai letto mi fai vedere il documento mi posti uno screenshot del documento mi citi almeno la norma citami almeno la norma così me la vado a guardare nel video come ho detto il messaggio è il 2003 potete scaricarlo potete verificarlo questi non vi dicono mai l'ha detto no me l'ha detto uno che lo sa che da questo punto di vista è zero dal punto di vista dell'attività è zero però però gli date credito gli date credito gli date visibilità e la fate girare questa cosa la fate girare al scapito di chi vi dice le cose come sono ragazzi io non voglio dire che è buono ragazzi credere a queste cose come credere alle favole della buonanotte io non vi impedisco di crederci ragazzi quello che mi gira è che poi quando prendete la badilata sulla faccia non andate a dire a questi qui testa di puntini puntini mi hai fottuto una volta non mi freghi più venite da noi a dire ma quello mi aveva detto così noi noi ti abbiamo detto che non era vero sei tu che gli hai voluto credere ragazzi e cosa diceva ben nato è stata tua la colpa adesso cazzo diceva che vuoi se tu segui una determinata linea una determinata cosa e poi ti accorgi che quello ti sta prendendo per il culo lo molli se tu scopri che ti prendi per il culo e continui a seguirlo allora a te va bene così perché ragazzi anche qua ogni tanto ne imbroccano una anche un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora giusta ma non per questo non è diventa funzionante diventa sano perché ricordatevi la bufala che anche quella era girata del famoso assegno le casalinghe vita natural durante era una bufala clamorosa ve ne abbiamo parlato ve ne ho parlato io ve ne ho parlato radio ucci gli altri giustamente hanno anche ignorato la cosa ma siccome era così grossa abbiamo preferito parlarne ma c'è gente che ci ha creduto che voleva sapere come fare la domanda o quella del reddito universale che non esiste ma su faccialibri è già fatto già fatto ma dove dove sta scritto dov'è il decreto dov'è non mi lo diranno mai perché non c'è non esiste la risposta è sempre quella me l'ha detto ma te l'ha detto chi te l'ha detto chi quando vi dico state sempre l'informazione corretta e verificabile è la vostra miglior arma contro le patacche perché ragazzi finché ci si limita a sparare cazzate che non fanno danno va bene ma quando queste cazzate vanno direttamente a colpire le persone più deboli le persone più in difficoltà e le illudono facendoli magari commettere degli sbagli allora non c'è più una giustificazione in questo senso chi le fa è un fetente punto ma se voi continuate a seguire i fetenti date loro visibilità e loro sulla visibilità ci sguazzano se avete dei dubbi verificate sempre di persona noi ve lo diciamo sempre verificate sempre di persona perché i mezzi ci sono se voi vi accontentate delle parole di un tizio che non ha né arte né parte che però vuol fare il figo su faccialibro o altro perché così può contare quanti like e quanti follower ha ragazzi ve l'ho già detto se vi piace essere fregati io non ci posso fare niente ciao a tutti grazie grazie grazie